mi piacerebbe fare una grande carriera come cantante ririca voglio diventare un ballerino voglio diventare una scenografa teatrale voglio diventare sarta teatrale mi piacerebbe fare una grande carriera come musicista perché la mia passione perché la mia vita perché il mio futuro perché il teatro e passione vita e futuro ma il talento da solo non basta ci vogliono impegno costanza e tanto studio per realizzare il mio sogno per trasformare una vera passione una professione vera una borsa di studio può fare molto vuol dire che tu credi in me mi fai vivere da protagonista il palco scenico e condividere con te l'emozione del teatro è un modo per farmi crescere e insieme a me far crescere la cultura a